Perché la Lega Nord sente questa esigenza? Ma diciamo una cosa, al di là dell'inasprimento per questi reatti particolarmente compiuti con crudeltà, volendo portarla sotto uno squisita, diciamo, profilo sociologico, filosofico, ogni comportamento umano è determinato dalla correttezza o dalla devianza. Una persona ha degli elementi per comportarsi bene, la propria moralità, le proprie convinzioni, però c'è anche un effetto deterrente, cioè sapendo che una pena è particolarmente severa, sapendo che la pena si dovrà scontare, che vi sarà la certezza, sapendo che non vi saranno sconti di pena, abbiamo un effetto deterrente maggiore che premerà verso comportamenti più virtuosi e meno devianti. Una delle funzioni di applicare queste nuove, noi proponiamo queste nuove sanzioni più aspre anche a questi reati, vorrebbe spingere non solo sull'aspetto umano ma anche sull'aspetto deterrente, su quell'effetto economico, viene definita della pena, il criminale fa anche un calcolo economico, mi conviene delinquere o commettere buone azioni, per spingerlo a comportarsi bene. Ecco, una spinta in più, una spinta non morale ma una spinta psicologica, dovuta a una pena severa, che anzi noi diremmo nessuno sconto di pena, ecco il messaggio che darà la Lega è che nella nostra società non ci saranno né tolleranze, né sconti per le devianze con particolari crudeltà.